Innanzitutto bentornato Davide e le tue prime impressioni tornato al Turina? Intanto grazie, sono delle belle impressioni perché comunque torno in un posto dove ero stato molto bene, mi sembra migliorato molto rispetto a 5 anni fa e quindi sono molto contento di essere tornato e pronto per questa nuova avventura. Ritrovi anche dei vecchi compagni che hai avuto qui nella tua esperienza passata, tipo legati il capitano, ma soprattutto ritrovi la Feralpi che è al primo posto in classifica. Sì, sono contento di trovare dei ragazzi con cui mi sentivo spesso e non vedo l'ora di tornare ad allenarmi e giocare con loro. Ritrovo una Feralpi prima, ho guardato un po' in questo periodo qualche partita e l'andamento e sono molto contento di trovarla così. So anche che comunque il campionato è molto lungo quindi c'è da lavorare molto. La grande cavalcata, cosa hai imparato dalla scorsa stagione che ti può essere utile anche in questa nuova esperienza? Sicuramente ho imparato che il gruppo fa la differenza perché era un gruppo speciale e magari meno forte sulla carta di altre squadre, però siamo riusciti comunque a vincere il campionato perché eravamo molto regati tra di noi. Conosci già Mister Vecchi quindi sicuramente ti può essere d'aiuto nell'inserimento del gruppo. Sì sì, conosco il Mister, ce l'avevo già avuto a Bolzano e quindi anche questo è un fattore in più che mi può aiutare perché comunque conosco lui. Perché la scelta della numero 23 per la maglia? In realtà è un numero che mi è sempre piaciuto, poi era disponibile e non ce ne erano altri quindi ho deciso di prendere 23. Il tuo capaci di per questa stagione? Penso capace di migliorarmi ogni giorno lavorando e dando una mano alla squadra e alla società. Il tuo saluto personale ai tifosi dei Leoni del Garda? Ciao a tutti i tifosi, sono contento di essere tornato e ci vediamo in campo. Ciao a tutti i tifosi, sono contento di essere tornato e ci vediamo in campo.